Oggi pomeriggio in cattedrale a Larino si svolgeranno i funerali della giovanissima Giorgia Caruso, l'amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino. I dati di Union Camera e Molise attestano un aumento delle imprese ma anche la cancellazione di numerose aziende con un calo degli addetti. Sette persone denunciate dai carabinieri di Boiano e di Sernia e reati contestati sono quelli di spaccio di stupefacenti, furti ed abbandono di rifiuti speciali. Stage tecnico per le ginnaste della ritmica già da Campobasso, presente per l'occasione l'Abruzzese Chiara Ianni, vice campione del mondo nel 2013. Buon pomeriggio e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di TLT Molise. Alle 16.30 di oggi pomeriggio Larino saluterà per l'ultima volta Giorgia Caruso, ospirata due sere fa sulla provinciale che collega il comune Frentano alla Bifernina. La quindicenne nel buio della sera è stata investita a pochi metri dalla propria abitazione e dall'arrivo di una panda. Inutile ogni tentativo di soccorso, i funerali si svolgeranno nella cattedrale. Il sindaco Vincenzo Notarangelo ha proclamato oggi in paese il lutto cittadino. Union Camera e Molise pubblica gli indicatori statistici relativi al secondo trimestre del 2015. crescono le imprese, soprattutto in agricoltura, commercio ed edilizia, ma aumentano anche le cancellazioni con un calo degli addetti. Anche per il secondo trimestre 2015 il sistema camerale molisano pubblica, rendendo disponibile a tutti l'insieme organico dei dati predisposti da Infocamere per l'analisi e la valutazione dei trend economici e produttivi del territorio regionale. Il numero complessivo delle iscrizioni di imprese in questo secondo trimestre del 2015 è stato di 594 unità, segnando un aumento del 17,2% rispetto all'uguale periodo dello scorso anno ed una differenza sostanziale con il dato nazionale che vede un aumento pari all'1,1%. Le cancellazioni delle imprese sono state 383, in aumento del 5,5%, con un saldo comunque positivo tra iscrizioni e cessazioni pari a più 211 unità. In Molise diminuisce il numero di imprese entrate in scioglimento e liquidazione, 60 unità in diminuzione del 15,5%, mentre aumentano i fallimenti e le altre procedure concorsuali che sono stati 33, cresciuti rispetto allo stesso periodo del 2014 del 32%. Nel Paese invece i fallimenti sono diminuiti dell'11,2%, diminuiti anche gli addetti delle imprese sul territorio molisano, sono 51.489, un 2,1% in meno. I comparti produttivi in crescita di iscrizioni vedono l'agricoltura con 138 nuove iscrizioni aumentare in maniera esponenziale rispetto allo scorso anno, un più 137,9%, seguono le iscrizioni nel commercio più 5,4% e costruzioni più 65,9%. Diminuiscono però le assicurazioni e credito meno 69,6%, trasporti e spedizioni meno 61,9% ed altri settori con un meno 33,3%. Interessante il dato delle iscrizioni di imprese femminili, circa il 29% del totale, che segnano un aumento del 9,5% in confronto dello stesso periodo del 2014. Agricoltura, commercio e turismo, i settori. Le imprese giovanili con lo stesso numero di iscrizioni aumentano di poco, i comparti scelti dagli under 35 sono commercio, costruzioni e turismo. Ed alcuni dati ricavabili da una particolare indagine commissionata da Union Camere sulla qualità dei servizi pubblici nelle città mostrano una immagine inattesa del Molise. In questa classifica Isernia occupa il quarto posto, mentre Campobasso è solo a due posti più in basso. Una ricerca che, come evidenzia il consigliere regionale Filippo Monaco, rianima la speranza che forse le amministrazioni locali si stanno mettendo al passo con le necessità del momento. Voltiamo pagina. Consumo di sostanze stupefacenti, furti e rifiuti speciali abbandonati. Per questi reati i carabinieri dei comandi di Isernia e Boiano hanno denunciato sette persone. Spaccio di droga, inquinamento ambientale, furti, sono questi i reati contestati dai carabinieri a sette persone, per lo più giovani. Le maggiori attività si sono concentrate in provincia di Isernia per detenzione illegale di stupefacenti. Dovranno rispondere in tribunale un Isernino, studente universitario trovato in possesso di alcune dosi di ascici, e un Boiano si è fermato dai militari della compagnia matesina con 20 bussolotti contenenti eroina. Ancora di Isernia i carabinieri sono riusciti ad identificare un pregiudicato quarantenne del posto, lesto ad introdursi all'interno di una potente BMW lasciata in un parcheggio dinanzi a un locale pubblico della città. Le tempestive testimonianze raccolte dalla pattuglia e le immagini di una telecamera per la videosorveglianza hanno fatto il resto. L'auto è stata restituita al proprietario nel giro di poco tempo. Ancora per il reato di furto è stato denunciato un trentenne foggiano. Il giovane si è reso protagonista del furto di una tessera a banco posta sottratta da Agnone all'interno di un'auto di un pensionato. Il pugliese non ha perso tempo e a più riprese prelevava al postamat somme per un totale di 2.500 euro, ma anche in questo caso veniva scoperto e identificato dai militari dell'arma. Infine, sempre in prossimità del capoluogo di provincia, adiacente alla statale 85 Venafrana, le forze dell'ordine hanno rinvenuto pericolose lastre di Eternit e altri rifiuti speciali provenienti dal comparto delle costruzioni, abbandonati senza alcun rispetto per il territorio, in una delle numerose discariche abusive che abbruttiscono le campagne del Molise. Ancora cronaca, colto in flagranza un 41enne del posto, è stato denunciato a piede libero per un tentativo di truffa a danno di un'anziana. È accaduto a Campobasso, l'uomo è stato notato da un agente di polizia mentre si aggirava con fare sospetto nel parcheggio del centro commerciale Monforte. Poi lo spostamento in pieno centro cittadino dove ha avvicinato una signora facendole credere che nel parcheggiare era stato procurato un danno all'auto. All'atto della donna di telefonare qualcuno per farsi consigliare, il truffatore ha cercato di allontanarsi ma è stato immediatamente bloccato dall'operatore della volante che, avendo assistito a tutta la scena, ha rilevato di essere in presenza di un pelese tentativo di truffa. L'uomo è stato quindi accompagnato in questura per i consueti adempimenti di rito. Aveva ritirato questa mattina la sua pensione ma forse per una distrazione ha smarrito il portafogli con all'interno il contante. Il panico ha sopraffatto la signora residente in località Sant'Antonio Abate a Campobasso. Le condizioni economiche della donna e della sua famiglia infatti non sono agiate e perdere quella somma ha provocato alla stessa un malore. Fortunatamente però un noto commerciante di Campobasso ha ritrovato la somma riconsegnandola alla signora che ha ringraziato l'uomo per la sua onestà. Il forum del trasporto pubblico locale del Molise insieme alla Filt CGL, all'Adoc e ad altre associazioni di consumatori parla delle criticità dell'intera rete ferroviaria regionale e delle responsabilità dell'azienda e delle istituzioni. Le note critiche sulle ferrovie in Molise sono tante, come tante sono le segnalazioni dei cittadini, pulizie, investimenti, biglietterie e tanto altro. Di questo si occupa oggi il forum del trasporto pubblico locale del Molise che in sintonia con la Filt CGL, l'Adoc ed altre associazioni a difesa dei consumatori intende sollecitare il gruppo delle ferrovie e le istituzioni regionali ad intervenire per migliorare il tutto. Noi segnaliamo due in particolare, il rifiuto di Trenitalia di fornire i nuovi treni per viaggiatori acquistati con un mutuo contratto con la BCE garantito dallo Stato perché la regione è in ritardo con i pagamenti dei debiti pregressi, ma noi ritroviamo questo ingiusto rispetto ai viaggiatori molisani perché tutto l'esercizio di Trenitalia e di ferrovie italiane avviene con finanziamento dello Stato, ma troviamo arrogante che Ferrovie ci ha risposto, TPL dice bugie, i nuovi treni non sono acquistati con i soldi dello Stato e allora noi gli dimostriamo con i dati analizzati, gli ultimi dati analizzati bilancio 2012 dalla GIG di Mestre, che ormai è un'autorità, che nel 2012, ma oggi non è che la situazione può essere molto cambiata, nel 2012 le ferrovie dello Stato hanno speso 5 miliardi e passa quasi 6 e hanno ricavato 2 miliardi e qualche cosa e allora gli chiediamo con quali soldi acquistano i treni nuovi, se non con i soldi dello Stato. L'altro problema che noi segnaliamo è che avevamo chiesto chiarimenti su un provvedimento di riduzione della pulizia sui treni a Campobasso e ci hanno risposto ancora una volta in maniera arrogante, risposto pubblicamente, riportato dai giornali, che il servizio è stato ridotto nel periodo estivo perché è stato spostato sulla tratta di Renica e ci chiediamo come i servizi del Molise, come i soldi del Molise vengono spostati da un'altra parte. Agli inizi di agosto l'ACEM si è rivolta al Presidente dell'autorità anticorruzione Raffaele Cantone, al Presidente del Consiglio Matteo Renzi e al Ministro delle Infrastrutture Graziano Del Rio segnalando la pubblicazione di bandi di gara per l'affidamento di lavori pubblici ritenuti umilianti per le imprese per il fatto di subordinare i pagamenti al previo finanziamento dell'opera e di far salvo l'ente appaltante per l'ipotesi in cui il finanziamento non dovesse giungere. L'ANAC ha così contattato l'ACEM per la trasmissione degli atti inerenti bandi contestati per fare chiarezza sull'intera questione. La raccolta differenziata a Gambatesa produce i suoi primi effetti positivi. Dopo solo tre mesi scendono dell'8% le bollette tari. È dallo scorso maggio che a Gambatesa la raccolta di rifiuti porta a porta è in realtà via i bidoni degli immondizianti estetici e malodoranti dalle strade del piccolo centro, più senso civico in paese ma soprattutto meno spese. Dopo circa quattro mesi dall'avvio del servizio infatti si è registrata una diminuzione delle bollette dell'atari del 2015 dell'8%, un primo bilancio che mette in evidenza la funzionalità e la sostenibilità della raccolta porta a porta. Un dato, quello della riduzione della tassa sullo smaltimento dei rifiuti rilevato con orgoglio dall'amministrazione comunale capeggiata dal sindaco Carmelina Genovese ed i vantaggi sono destinati ad aumentare se si persegue nelle buone pratiche. Grazie a tale raccolta c'è un minor conferimento in discarica di rifiuti indifferenziati associato comunque ad un costo del servizio immutato. In virtù delle previsioni dunque nel 2015 si dovrebbe passare ad una spesa media di circa 167 euro, 10 euro in meno rispetto allo scorso anno. Ovviamente le tariffe sono ripartite in base alla metratura dell'abitazione e al numero dei residenti all'interno della stessa. Intanto si continua a guardare alle percentuali. A giugno quella dei rifiuti differenziati raccolti è stata del 53% con una riduzione drastica anche del peso complessivo dei rifiuti prodotti. A giugno 32 tonnellate, ad aprile 45. Il Comune attende ora l'erogazione del finanziamento regionale per realizzare l'isola ecologica e dotare i cittadini di ulteriori attrezzature per differenziare meglio ed in modo più comodo. Sono 265 molisse le nomine annuali dei docenti di ogni ordine di scuola fino al 30 giugno. La ripartizione delle supplenze degli insegnanti ne prevede 197 in provincia di Campobasso e 68 in quella di Isernia. Relativamente alla fase B del piano nazionale delle assunzioni, le proposte saranno disponibili sul portale del Ministero dell'Istruzione dopo la mezzanotte. E questa mattina l'apertura dell'anno scolastico degli asili nido comunali. Diverse le novità, tra queste a Termoli la possibilità che ne usufruiscano non solo i residenti ma anche coloro che lavorano nella cittadina adriatica e che vivono in località circostanti. Rinnovato inoltre il regolamento che prevede la partecipazione anche di genitori e personale ausiliario alle attività scolastiche. Dal prossimo 7 settembre invece sarà attivo il servizio mensa. Passiamo ora alle previsioni del tempo. Giornata calda e soleggiata su tutto il Molise, cielo stellato dalle ore serali, le temperature sono comprese tra i 21 gradi di Capobasso fino alla massima di 32 a Isernia, ventilazione debole meridionale, calmo l'adriatico centrale, domattina ancora cielo limpido su tutta la regione, valori climatici in leggera flessione, i venti si disporranno dai quadranti occidentali. Tutto confermato, le tre molisane di serie D sono state inserite nel girone F assieme alle formazioni abruzzese e marchigiane. Si parte domenica 6, ultimo turno l'8 maggio del prossimo anno. Campobasso Recanatese, Chieti Agnone, Matelica Isernia, questa è la prima giornata del campionato di serie D in programma fra 5 giorni. Dopo settimane di attesa, finalmente oggi la Lega Nazionale di Lettanti ha diramato gironi e calendari. A proposito dei gironi, sollievo per le tre molisane che ripercorreranno il viaggio degli ultimi anni nel raggruppamento con abruzzesi e marchigiane, tutte e tre inserite nel girone F. Sicuramente più tecnico di quelli meridionali, ma di certo per condizioni ambientali decisamente più abbordabile. Sono state evitate le temibili trasferte in terra campana e pugliese. L'Abruzzo sarà rappresentato dalla Ami Ternina dell'Aquila, Avezzano, Chieti, Giulianova e San Nicolò di Teramo. Dieci invece le formazioni marchigiane, Fano, Castelfidardo, Fermana, Iesina, Matelica, Recanatese, San Benedettese, la ripescata a Vispesaro e le neopromosse Folgone, Veregna e Monticelli. Alvia, come detto domenica a sei alle ore quindici, stagione regolare che terminerà domenica 8 maggio 2016. Agnonese-Isernia sarà il primo derby della stagione il 5 ottobre, seguito il giorno 25 dello stesso mese da Campobasso-Agnonese. Per vedere invece contro i due capoluoghi di provincia bisognerà attendere la diciassettesima e ultima giornata di andata il 20 dicembre allo stadio Le Piane. Intanto in questi ultimi giorni di preparazione il Campobasso ha raggiunto l'accordo con il 19enne portiere Giulio Grillo proveniente dal Torino in prestito. Venerdì sera la presentazione della squadra del rosso-blu ai tifosi in piazza Municipio. Ultimi giorni di mercato anche per Lisernia di Pierluigi De Bellis e per l'Olimpia di Silvio Paolucci. I Granata sono alla ricerca di una prima punta di razza e di due juniores, un portiere e un esterno per completare la rosa. Eleganza, elasticità, grinta e duri allenamenti sono questi i requisiti principali per emergere nella ginnastica ritmica. A Campobasso la visita della vice campionessa del mondo Chiara Ianni. Vediamo. Un palmarès eccezionale quello raggiunto da Chiara Ianni nella ginnastica ritmica nonostante la sua giovanissima età, 23 anni. Abruzzese di Popoli si allena tra Chieti, Pescara e Ortona. Ai mondiali di Chiev due anni fa ha raggiunto l'apice della sua carriera con una medaglia d'argento, prima ancora campionessa italiana juniores nel 2005 e nel 2006, tre anni più tardi vince campionessa nazionale assoluta. Invitata in Molise ha raggiunto il capoluogo per seguire nella palestra di Via Trentino uno stage di alcune giovanissime allieve della ritmica JAD. C'erano 60 ragazzine che praticano il mio stesso sport e niente, le ho trovate bene nonostante le vacanze e spero che inizieranno quest'anno bene, so che hanno molte gare da fare e niente, quindi do a loro un in bocca al lupo. Come ha visto il livello tecnico di queste ragazze allieve molisane rispetto allo standard nazionale? Beh sicuramente sono molto pronte, poi Enza è sempre in contatto con la mia allenatrice che è una tecnica nazionale quindi sa sicuramente darle delle ottime informazioni riguardo tutto il programma della ginnastica. Come si riescono a raggiungere i risultati di eccellenza a livello europeo e mondiale? Beh il lavoro al primo posto, però ci deve essere anche tanta passione, perché senza la passione purtroppo siccome il lavoro è tanto diciamo che bisogna mettercela tutta per affrontare giornate di allenamento, che sono comunque almeno 8-9 ore al giorno per tutti i giorni. I suoi prossimi impegni? Io ora mi alleno però soprattutto faccio da allenatrice, quindi da quest'anno alleno sia nella mia società dove sono cresciuta e sia in un'altra società d'Abruzzo, nel frattempo continuo anche un po' ad allenarmi per le varie esibizioni che ho in giro per l'Italia. A livello di disciplina proprio la ginnastica ritmica quali le qualità che occorrerebbero di più? Beh è uno sport femminile, quindi soprattutto l'eleganza, poi la ginnastica è uno sport che comunque comprende un po' tutti gli elementi che gli sport devono avere, quindi comunque la potenza, l'elasticità, grinta, vabbè quello in tutti, quindi un po' tutto diciamo. Il secondo appuntamento sportivo con la giornata paralimpica si svolgerà a termoli giovedì mattina negli impianti del Circolo della Vela, 50 circa gli sportivi molisani con disabilità adulti e ragazzi che parteciperanno alle prove in acqua e in spiaggia. E con questa notizia si chiude il nostro telegiornale, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni, arrivederci.